Capitolo 4 Non avrebbe potuto sentirsi più vulnerabile se fosse stato nudo in mezzo al corso. In quel caso, almeno, avrebbe avuto la possibilità di fuggire. Lì, invece, bloccato e in bella vista, comprendeva per la prima volta l'incapacità degli animali di nascondersi. I bambini avevano cominciato a chiacchierare in toni eccitati e a indicare la sua divisa scolastica, attirando l'attenzione degli adulti. Nuovi volti stavano colmando tutto lo spazio disponibile tra le sbarre. Ma il vero orrore era composto da un paio di telecamere posizionate ai due lati dello spazio dedicato ai visitatori. Capitol News Con la sua cronaca onnipresente e i suoi slogan sfacciati Se non l'avete visto qui, non è mai accaduto. Oh, stava accadendo e come. A lui. In quell'istante. Era cosciente che la sua immagine stava andando in onda in tutta Capitol City. Per fortuna, lo shock lo aveva immobilizzato dove era, perché l'unica cosa peggiore che starsene tra la marmaglia dei distretti allo zoo sarebbe stata mettersi a correre come un pazzo di qua e di là cercando di scappare. Non c'era un'uscita facile da raggiungere. Quella gabbia era fatta per gli animali selvatici. Tentare di nascondersi sarebbe stato ancora più patetico. Probabile che quelli di Capitol News avrebbero trovato molto appetitoso un filmato del genere. Lo avrebbero trasmesso fino alla nausea. Con l'aggiunta di musichette e titoli sciocchi. Lo scioglimento del freddo snow lo avrebbero reso parte delle previsioni meteo. La freddezza di snow a rischio per il caldo eccessivo. Non avrebbero smesso finché avesse avuto vita. E la sua vergogna sarebbe stata assoluta. Che alternativa aveva, quindi? Solo tenere il punto. Guardare dritto in camera finché non fossero venuti a recuperarlo. Si eresse in tutta la sua statura. Portò un po' indietro le spalle. E tentò di sembrare annoiato. Il pubblico cominciò a rivolgersi a lui. Prima vennero le voci acute dei bambini. Poi anche gli adulti si unirono a loro. Chiedendogli cosa stava facendo. Perché si trovava nella gabbia. E se aveva bisogno di aiuto. Qualcuno lo riconobbe. E il suo nome si diffuse come un incendio boschivo tra la folla. Che diventava più fitta di minuto in minuto. È il ragazzo degli Snow. E chi sono? Lo sai, quelli con le rose sul tetto. Chi erano tutte quelle persone che ciondolavano per lo zoo in un giorno feriale? Non avevano un lavoro. I bambini non avrebbero dovuto essere a scuola. Non c'era da meravigliarsi se il paese era un tale disastro. I tributi cominciarono a girargli intorno deridendolo. C'erano i due del distretto 11. E il ragazzino crudele che aveva proposto di ammazzarlo. E molti altri che non aveva notato prima. Gli tornò in mente l'odio che aveva percepito sul camion. E si chiese cosa sarebbe successo se lo avessero attaccato in branco. Forse gli spettatori si sarebbero limitati a fare il tifo per loro. Coriolanus cercò di non lasciarsi prendere dal panico. Ma sentiva il sudore scorrergli lungo i fianchi. Tutte quelle facce, quelle dei tributi lì vicino, quelle della folla davanti alle sbarre, iniziarono a confondersi. I lineamenti si fecero vaghi, trasformandosi in chiazze di pelle scura e chiara, interrotte dal rosso tenue e delle bocche aperte. Le sue gambe e le sue braccia sembravano intorpidite. I suoi polmoni bramavano aria. Stava cominciando a pensare di correre allo scivolo e provare a scalarlo, quando una voce dietro di lui disse piano «Stendili». Senza girarsi, capì che era la ragazza, la sua ragazza, e provò un immenso sollievo all'idea di non essere completamente solo. Ripensò all'abilità con cui Lucy aveva ingannato tutti dopo l'aggressione del sindaco, a come aveva conquistato gli ascoltatori con la sua canzone. Aveva ragione lei, certo. Doveva far sembrare voluta quella situazione, o era finita. Inspirò a fondo e si girò verso il punto in cui era seduta, occupata a mettersi la rosa bianca dietro l'orecchio con aria distratta. Sembrava sempre voler migliorare il suo aspetto, sistemandosi le balze del vestito nel distretto 12, pettinandosi i capelli alla stazione e ora adornandosi con la rosa. Lui le tese la mano come se fosse la più splendida signora di Capitol City. Gli angoli della bocca di Lucy Gray si incorvarono verso l'alto. Quando lei gli prese la mano, il suo tocco gli fece correre una minuscola scintilla elettrica lungo il braccio, dandogli la sensazione che un pizzico del suo carisma sul palco si fosse trasferito a lui. Le rivolse un piccolo inchino, mentre lei si alzava in piedi con esasperata eleganza. Lei è in scena. Tu sei in scena. Questo è lo spettacolo, pensò. Sollevò la testa e le chiese. Ti andrebbe di conoscere alcuni dei miei vicini? Ne sarei felice, rispose lei, come se fossero a un teppo meridiano. Il mio profilo migliore è il sinistro, «Mormorò», sfiorandosi leggermente la guancia. Coriolanus non sapeva bene cosa farsene di quell'informazione. Così cominciò a guidarla verso sinistra. Lucy Gray lanciò un gran sorriso agli spettatori, contenta di essere lì, però solo in apparenza, perché, mentre lui la conduceva verso le sbarre, la sentì stringergli le dita come in una morsa. Il basso fossato scavato tra le conformazioni rocciose e le sbarre della gabbia delle scimmie un tempo formava una barriera d'acqua che separava gli animali dai visitatori, ma ormai era asciutto. Scesero quindi tre gradini, attraversarono il fossato e risalirono fino a una piattaforma che seguiva il perimetro del recinto e li metteva alla stessa altezza del pubblico. Coriolanus scelse un punto a parecchi metri di distanza da una delle telecamere che venisse lei da lui, dove si era ammassato un gruppo di bambini piccoli. Le sbarre erano disposte a una decina di centimetri l'una dall'altra, uno spazio troppo ridotto per farci scivolare in mezzo a un corpo, ma sufficiente per infilare una mano volendo. I bambini tacquero, mentre loro due si avvicinavano, schiacciandosi di nuovo contro le gambe dei genitori. Pensò che l'immagine del tempo meridiano valesse quanto un'altra, quindi continuò a gestire la situazione con la stessa leggerezza. «Come state?» disse sporgendosi verso i bambini. «Oggi ho portato con me un'amica. Vi piacerebbe conoscerla?» I piccoli si spostarono e ci furono alcune risatine. Poi un bimbo gridò «Sì!» Batté alcune volte sulle sbarre con le mani, poi se le cacciò nelle tasche, incerto. «L'abbiamo vista alla tv!» Coriolanus avvicinò Lucy Gray alle sbarre. «Posso presentarti la signorina Lucy Gray Bird?» Ora gli spettatori erano ammutoliti, nervosi nel vederla accanto ai bambini, ma impazienti di sentire cosa avrebbe detto quello strano tributo. Lucy Gray mise un ginocchio a terra, restando a una trentina di centimetri dalle sbarre. «Ciao! Io sono Lucy Gray. Tu come ti chiami?» «Ponzius!» rispose il bambino, alzando gli occhi verso la madre in cerca di rassicurazione. La donna guardò diffidente Lucy Gray, ma la ragazza la ignorò. «Piacere, Ponzius!» disse. Come ogni ragazzino beneducato di Capitol City, il piccolo le tese la mano. Lucy Gray sollevò la sua per fare lo stesso, ma si trattenne dall'infilarla attraverso le sbarre per non apparire minacciosa. Di conseguenza fu il bimbo ad allungare il braccio dentro la gabbia per stabilire un contatto. Lei gli strinse la manina con calore. «Molto lieta di conoscerti. Lei è tua sorella?» Lucy Gray accennò alla bambina accanto a lui. Aveva gli occhi sgranati e si succhiava un dito. «Si chiama Venus», rispose il maschietto. «Ha solo quattro anni». «Eh, credo che quattro anni siano una gran bella età», replicò la ragazza. «Lieta di conoscerti, Venus». «Mi è piaciuta la tua canzone», sussurrò Venus. «Davvero?» disse Lucy Gray. «Che cosa dolce!» «Beh, tu continua a guardarmi tesoro e io proverò a cantartene un'altra. D'accordo?» Venus annuì e nascose il viso nella gonna della madre, il che suscitò nel pubblico risate e qualche oh di tenera meraviglia. Lucy Gray cominciò a muoversi lungo la recinzione, affascinando i bambini uno dopo l'altro. Coriolanus si teneva un po' in disparte per lasciarle spazio. «Hai portato il tuo serpente», chiese speranzosa una bambina che stringeva in mano un gocciolante ghiacciolo alla fragola. «Avrei tanto voluto farlo. Quel serpente era un mio grande amico», le disse Lucy Gray. «Tu hai un animale domestico?» «Ho un pesce», rispose la piccola. Si appoggiò alle sbarre. «Si chiama Boob». Si passò il gelato nell'altra mano e allungò il braccio per arrivare a Lucy Gray. «Posso toccare il tuo vestito?» Aveva strisce di sciroppo rosso vivo che le colavano dal pugno al gomito, ma Lucy Gray si limitò a ridere e le offrì un pezzetto di gonna. La bimba fece scorrere un dito esitante sulle balze. «È carino!» «Anche il tuo!» L'abito della piccola era una robetta stampata e sbiadita, niente di che, ma Lucy Gray disse «I Pua mi mettono sempre allegria!» E la bambina le rivolse un sorriso raggiante. Coriolanus percepì che gli spettatori cominciavano ad apprezzare il suo tributo e non si preoccupavano più di tenersi a distanza. Era facile manipolare le persone quando c'erano di mezzo i loro figli. Erano così contente di vederli contenti. Lucy Gray sembrava saperlo distinto e infatti proseguiva ignorando gli adulti. Aveva quasi raggiunto una delle telecamere e l'inviato accanto ad essa. Ne aveva sicuramente avvertito la presenza, ma quando se la ritrovò puntata in faccia, ebbe un leggero sobbalzo, poi si mise a ridere. «Oh, salve! Siamo in TV?» Il reporter di Capital City, un giovane impaziente di avere una storia da raccontare, si avvicinò avidamente. «Ma certo!» «E lei chi sarebbe?» chiese la ragazza. «Sono Lepidus Malmsey per Capital News», rispose lui sfoggiando un sorriso. «Allora, Lucy, sei il tributo del distretto 12?» «Sono Lucy Gray e in realtà non vengo dal 12», disse la ragazza. «I miei sono Covei, musicisti professionisti. Un bel giorno abbiamo preso la direzione sbagliata e siamo stati costretti a restare.» «Ah, quindi...» «Da quale distretto vieni?» chiese Lepidus. «Da nessuno in particolare. Ci spostiamo da un posto all'altro quando ci gira.» si interruppe. «Beh, insomma, lo facevamo prima che i pacificatori ci obbligassero a fermarci qualche anno fa.» «Ma adesso siete cittadini del distretto 12», insiste il giovane. «Se lo dice lei...» Gli occhi di Lucy Gray vagarono di nuovo verso il pubblico come se rischiasse di annoiarsi. Il reporter sentiva che la ragazza gli stava sfuggendo. «Il tuo vestito ha avuto un gran successo a Capital City.» «Davvero?» «Beh, i covi amano i colori e io più di chiunque altro.» «Ma questo era della mia mamma quindi per me è super speciale», disse. «Lei si trova nel distretto 12?» chiese Lepidus. «Là ci sono solo le sue ossa, dolcezza. Solo le sue ossa bianche come perle.» Lucy Gray fissò il giornalista che parve avere qualche difficoltà a formulare la domanda successiva. Lei l'osservò a naspare per un istante. Poi fece cenno a Coriolanus. «Conosce il mio mentore?» «Dice di chiamarsi Coriolanus Snow. È un ragazzo di Capital City ed è evidente che a me è toccata la torta con anche la ciliegina perché i mentori degli altri tributi non si sono neanche presi il disturbo di farsi vivi per dar loro il benvenuto.» «Vabbè, in effetti ci ha fatto una bella sorpresa. Ti hanno detto i tuoi insegnanti di stare qui, Coriolanus?» chiese Lepidus. Coriolanus avanzò verso la telecamera, mirando a risultare simpatico e un tantino malizioso. Non mi hanno detto di non farlo. Le risate corsero tra la folla, ma ricordo bene di averli sentiti dire che dovevo presentare Lucy Gray a Capital City e ho preso il compito molto sul serio. «Quindi non ci hai pensato due volte a tuffarti in una gabbia di tributi?» lo imbeccò il giornalista. «Ci ho pensato due volte, tre, e immagino che prima o poi ci penserò anche una quarta e una quinta», ammise Coriolanus. «Ma se lei è tanto coraggiosa da stare qui, perché non dovrei starci io?» «Ah, per la cronaca io non ho avuto scelta», disse Lucy Gray. «Per la cronaca nemmeno io», ribatté Coriolanus. «Dopo averti sentita cantare, non potevo starti lontano. Lo confesso, sono un tuo fan». Lucy Gray fece ondeggiare la gonna frusciante mentre dal pubblico si levava qualche applauso. «Beh, spero per te che l'Accademia sia d'accordo, Coriolanus», disse Lepidus. «Credo tu stia per scoprirlo». Coriolanus si voltò e vide due battenti metallici con le finestrelle rinforzate da inferriate che si aprivano sul fondo della gabbia delle scimmie. quattro pacificatori entrarono a passo di marcia e si diressero dritti verso di lui. Si girò di nuovo a favore di telecamera, deciso a fare una bella uscita di scena. «Grazie per esservi uniti a noi», disse. «Ricordate, questa è Lucy Gray, rappresentante del distretto 12. Passate dallo zoo a salutarla se avete un attimo di tempo. Vi garantisco che ne vale davvero la pena». Lucy Gray gli porse la mano con il lieve incurvarsi del polso che sollecitava un bacio. Lui la secondò e quando le sue labbra le sfiorarono la pelle provò un brivido piacevolissimo. Dopo aver salutato il pubblico con la mano un'ultima volta raggiunse con calma i pacificatori. Uno di loro gli rivolse un brusco cenno della testa e Coriolanus, senza dire una parola, seguì i militari fuori dal recinto accompagnato da un caldo applauso. Quando la porta si chiuse dietro di lui il fiato gli uscì in una specie di ansito facendogli capire quanta paura avesse avuto. Si congratulò silenziosamente con se stesso per aver mantenuto l'eleganza anche sotto pressione ma gli sguardi torvi dei pacificatori lasciavano intendere che non fossero del suo stesso parere. «A che gioco stai giocando?» chiese una soldatessa. «Non hai il permesso di entrare là dentro». «Lo pensavo anch'io finché le vostre corti non mi hanno irriguardosamente scaraventato giù per uno scivolo» replicò Coriolanus. Pensò che la combinazione di corti e irriguardosamente avesse proprio la giusta nota di superiorità. Io ho accettato soltanto il passaggio allo zoo. Sarei lieto di spiegare tutta la storia al vostro ufficiale in comando e identificare i pacificatori responsabili. Ma a voi porgo i miei ringraziamenti». «Sì, va bene», disse la donna in tono piatto. «Abbiamo ordine di scortarti all'accademia». «Ancora meglio», commentò Coriolanus, suonando più sicuro di quanto non si sentisse. La reazione tanto rapida della scuola lo turbava. Anche se il televisore presente nel sedile posteriore del furgone dei pacificatori era guasto, lungo la strada Coriolanus riuscì comunque a dare uno sguardo al servizio sugli enormi schermi pubblici disseminati per Capitol City. Si sentì ribollire di energia nervosa quando vide immagini prima di Lucy Gray, poi di se stesso, trasmesse per la città. Lui non avrebbe mai pianificato niente di così temerario, ma, visto che era accaduto, tanto valeva godersi la situazione. E in effetti, pensò, la sua era stata un'ottima interpretazione. Era rimasto calmo, aveva tenuto il punto. dato risalto alla ragazza, che per parte sua era un talento naturale, gestito la faccenda con dignità e un pizzico di sarcasmo. Quando giunse all'accademia, aveva ormai riacquistato la piena padronanza di sé, quindi salì i gradini con sicurezza. A dargli fiducia contribuì il fatto che tutte le teste si stessero girando nella sua direzione e che se non ci fossero stati pacificatori a tenerli a bada, di certo i suoi compagni sarebbero arrivati a frotte. Credeva che lo avrebbero portato in presidenza e invece, tra tutti i posti possibili, la guardia lo lasciò sulla panca fuori dal laboratorio di biologia avanzata, riservato agli studenti dell'ultimo anno più dotati in quel campo. Per quanto non fosse la sua materia preferita, l'odore della formaldeide gli faceva venire iconati di vomito e detestava lavorare in coppia, in manipolazioni genetiche era andato abbastanza bene, tanto da conquistarsi un posto nel corso. Niente a che vedere con quella maga di Joe Jasper che sembrava nata con un microscopio incollato a un occhio. Però lui era sempre gentile con io e di conseguenza lei lo adorava. Con le persone che non godevano di popolarità, anche i piccoli sforzi finivano per lasciare il segno. Ma chi era lui per sentirsi superiore? Di fronte alla panca sulla bacheca per le comunicazioni agli studenti era stato affisso un appunto. Decimi Hunger Games Mentori incaricati Distretto 1 Maschio Livia Cardio Femmina Palmira Monti Distretto 2 Maschio Seiano Splint Femmina Florus Friend Distretto 3 Maschio Io Jasper Femmina Urbanus Canvil Distretto 4 Maschio Persephone Price Femmina Festus Cred Distretto 5 Maschio Dionisius Fling Femmina Iphigenia Mos Distretto 6 Maschio Apollo Ring Femmina Diana Ring Distretto 7 Maschio Vipsania Sickel Femmina Plinius Harrington Distretto 8 Maschio Juno Phipps Femmina Ilarius Heavensby Distretto 9 Maschio Gaius Brin Femmina Androclus Anderson Distretto 10 Maschio Domitia Wimsywick Femmina Arachne Crane Distretto 11 Maschio Clemencia Dovecoat Femmina Felix Ravenstil Distretto 12 Maschio Lysistrata Vickers Femmina Coriolanus Snow Poteva esistere un promemoria pubblico della sua precaria posizione più bruciante del ritrovarsi in fondo a quell'elenco come un ripiego. Coriolanus trascorse alcuni minuti a scervellarsi sul perché l'avessero portato al laboratorio, dopodiché la guardia gli disse che poteva entrare. Al suo bussare esitante, una voce che riconobbe come quella del decano Highbottom lo invitò a farsi avanti. Si era aspettato che Satiria fosse presente, ma dentro trovò solo un'altra persona. Un'anziana donna bassa e curva dai capelli grigi e crespi che stuzzicava un coniglio in gabbia con un'asticella metallica. Lo punzecchiò attraverso la rete finché la creatura, modificata per avere mascelle potenti quanto un pitbull, le strappò di mano l'asticella e la spezzò in due. A quel punto la donna si raddrizzò come poteva, rivolse la sua attenzione a Coriolanus ed esclamò «Oppiti! Oppiti!» La dottoressa Volumnia Goal, capo stratega e mente direttiva della sezione armi sperimentali di Capitol City, spaventava Coriolanus fin da quando era piccolo. Durante una gita scolastica, lui e i suoi compagni di nove anni erano rimasti a guardarla mentre fondeva la carne di una cavia da laboratorio con una specie di laser per poi chiedere se qualcuno avesse un animale di cui si era stancato. Coriolanus non aveva animali, come avrebbero potuto permettersi di nutrirne uno, ma Pluribus Bell aveva una gatta dal morbido pelo bianco che si chiamava Boa Bell e che si sdraiava sulle ginocchia del suo proprietario divertendosi a prendere a zampate le estremità della parrucca incipriata. Si era presa una cotta per Coriolanus e iniziava istintivamente a emettere fusa roche non appena lui le accarezzava la testa. Nei giorni copi passati ad arrancare nella fanghiglia gelida per barattare un sacco di fagioli con altro cavolo, era stato lo sciocco, settoso calore della bestiola a confortarlo. Il pensiero che Boa Bell potesse finire nel laboratorio lo sconvolgeva. Coriolanus sapeva che la dottoressa Goll teneva un corso all'università, ma l'aveva vista di rado all'accademia. Come capo stratega, però, tutto quello che era collegato agli Hunger Games rientrava nella sua sfera di competenza. Poteva essere stata la sua spedizione allo zoo a portarla lì? E lui era forse sul punto di perdere l'incarico da mentore. Oppiti, oppiti! La dottoressa Goll soghignò. Lo zoo com'era? Poi si mise a ridere. Sembra una filastrocca per bambini. Oppiti, oppiti! Lo zoo com'era! Sei caduto in gabbia con la tua prigioniera! Le labbra di Coriolanus si tesero in un debole sorriso, mentre i suoi occhi guizzavano verso il decano High Bottom in cerca di qualche indizio su come reagire. L'uomo, accasciato su un tavolo da laboratorio, si sfregava la tempia in un modo che suggeriva un mal di testa lancinante. No, nessun aiuto da lì. Sì, disse Coriolanus. È in una gabbia che siamo caduti. La dottoressa Goll lo guardò inarcando un sopracciglio, come se si aspettasse altro. E? E poi... Sul palco siamo piaciuti? Aggiunse lui. Sì, esattamente! È esattamente quello che avete fatto! La dottoressa Goll gli rivolse uno sguardo di approvazione. Sei bravo nei giochi! Forse un giorno diventerai uno stratega. Non gli era mai passato per la mente. Senza offesa per Remus, però non gli sembrava un granché come lavoro. O che gettare ragazzini e armi in un'arena e abbandonarli a vedersela tra loro richiedesse un'abilità particolare. Magari gli strateghi dovevano organizzare le mietiture e filmare i giochi, ma lui aspirava a una carriera più stimolante. Ho ancora molto da imparare prima di poterlo anche solo prendere in considerazione, disse con modestia. L'istinto c'è. È quello che importa. Ribatte la dottoressa Goll. Allora, raccontami, cos'è che ti ha convinto a entrare nella gabbia? Era stato un caso. Stava già per dirlo quando pensò a Lucy Gray che gli sussurrava Stendili. Beh, il mio tributo, ecco, lei è troppo piccola. Il tipo che muore nei primi cinque minuti degli Hunger Games. Ma è attraente. Sia pure in modo un po' trasandato, canta, eccetera. Coriolanus fece una pausa, come se stesse riesaminando il suo piano. Non credo abbia nessuna possibilità di vincere, ma non è questo il punto, giusto? Mi è stato detto che dovevamo tentare di affascinare il pubblico. È questo il mio compito. Convincere la gente a guardare i giochi. Così mi sono chiesto come faccio ad arrivare al pubblico. Vado dove ci sono le telecamere. La dottoressa Goal a noi. Sì, sì, non esistono Hunger Games senza pubblico. Si girò verso il decano. Visto, Casca? Questo qui ha preso l'iniziativa. Lui capisce l'importanza di mantenere in vita i giochi. Il decano High Bottom lo guardò strizzando gli occhi. Scettico. Davvero? O si sta solo mettendo in mostra per ottenere una valutazione migliore? Quale credi che sia lo scopo degli Hunger Games, Coriolanus? Punire i distretti per la ribellione, rispose lui senza incertezze. Sì, ma quella punizione potrebbe assumere un'infinità di forme, obiettò il decano. Perché proprio gli Hunger Games? Coriolanus aprì la bocca. Poi esitò. Perché gli Hunger Games? Perché non limitarsi a sganciare bombe, ad annullare le forniture di cibo o a organizzare esecuzioni sui gradini dei palazzi di giustizia dei distretti? La sua mente corse a Lucy Gray, che si inginocchiava davanti alle sbarre della gabbia e attirava i bambini, alla folla che si scioglieva a poco a poco. Le due cose erano collegate da un nesso che non riusciva a esprimere. Perché è per via dei bambini, di quanto contano per la gente. E in che modo contano? Lo incalzò il decano Highbottom. «La gente ama i bambini», disse Coriolanus. Ma dubitò di quelle parole già mentre le pronunciava. Durante la guerra era stato bombardato, affamato e maltrattato nei modi più svariati e non solo dai ribelli. Gli avevano strappato dalle mani un cavolo. Un pacificatore lo aveva colpito alla mascella quando, per errore, si era avvicinato troppo alla residenza del presidente. Pensò alla volta in cui, contagiato dall'influenza aviaria, era svenuto per strada e nessuno, nessuno, si era fermato ad aiutarlo. Era scosso dai brividi, con la febbre alta e un dolore come di chiodi che gli infilzavano gambe e braccia. Nonostante fosse malata anche lei, quella notte Tigris lo aveva trovato e riportato a casa nonostante tutto. Tentennò. Cioè, a volte li ama, aggiunse, ma la sua frase mancava di convinzione. Riflettendoci su, l'amore della gente per i bambini gli parve qualcosa di molto incostante. No, non so proprio perché Younger Games si arrese. Il decano High Bottom scoccò un'occhiata alla dottoressa Goal. Visto? È un esperimento fallito. Lo è se nessuno guarda, lo rintuzzò lei, brusca. Sorrise indulgente a Coriolanus. È lui stesso un bambino. Dagli tempo. Sento che farà bene. Ora vado a trovare i miei ibridi. Diede un colpetto sul braccio del ragazzo mentre si avviava alla porta strascicando i piedi. È segretissimo, ma ai rettili sta succedendo qualcosa di meraviglioso. Coriolanus fece perseguirla, ma la voce del decano High Bottom lo fermò. E quindi tutta la tua esibizione era pianificata. Curioso, perché quando ti sei alzato in piedi in quella gabbia, ho pensato che stessi meditando di fuggire. È stata un'entrata in scena molto più fisica di come avevo immaginato. Mi ci è voluto un po' per orientarmi. Lo ripeto, ho ancora tantissime cose da imparare. Ribatte Coriolanus. E i limiti sono tra quelle. Riceverai una nota di demerito per aver tenuto un comportamento irresponsabile che avrebbe potuto danneggiare uno studente. Cioè, te. Finirà sul tuo fascicolo personale, disse il decano. Una nota di demerito. E cosa significava? Avrebbe dovuto riguardarsi la guida dello studente fornita dall'accademia per potersi opporre alla punizione. Fu distratto dal decano che prese una bottiglietta dalla tasca, svitò il tappo e si fece cadere sulla lingua tre gocce di liquido chiaro. Qualunque cosa contenesse la bottiglietta, quasi certamente morfamina, agì in fretta perché tutto il corpo del decano High Bottom si rilassò e i suoi occhi si fecero trassognati. rivolse a Coriolanus un sorriso sgradevole. Tre note di demerito e sarai espulso. che si rilassò che si rilassò si rilassò